Potente appala ragazzi, qua Axelogio Megato, oggi sono Al Sole e sono qui a presentarvi questo mio nuovo video Che è un nuovo video di uno squad builder, infatti il mio secondo squad builder su Viva14 Allora ragazzi, innanzitutto vi volevo ringraziare appunto per tutto il supporto che mi state dando sia sul primo che sul secondo canale Perché, non so se ci avete fatto caso, ma sul secondo canale me ne state dando un macello Infatti io sono stra felice ma proprio appala Poi volevo anche dire che avrò delle piccole, appunto con questo video rinizierà la serie dei comments of the week Comunque, appunto andando avanti vi ne parlerò meglio E poi, boh, di ricordarvi di passare appunto se volete comprare crediti da fifacoinstash.com Il link lo trovate in descrizione E se siete interessati appunto al tutorial che ho fatto, mandatemi un messaggio Comunque, innanzitutto partiamo dal modulo di questo squad builder Io sto utilizzando Viva14, 4-1-2-1-2, quello con gli esterni, quindi il normalissimo 4-1-2-1-2 È una squadra molto bella, costerà circa 200.000 credit Quindi, ragazzi, io ho fatto questa squadra perché è quella che ho io al momento Se potete, in descrizione, scrivetemi anche uno squad builder che vorreste vedere Quindi magari una squadra tutta brasiliana, della serie A, della serie B, della Bundesliga Oppure anche un'ibrida, ma ricordate di specificare il prezzo Poi volevo anche dire che tra poco inizierò a fare i Pink Pal E se ce la farò, venderò FIFA14 per l'Xbox e lo comprerò per la Play Appunto perché so, ahimè l'ho capito troppo tardi che su Play c'era molta più gente che mi seguiva E poi, non so se lo sapete, ma si pensava che su Xbox avessero risolto il problema del freezing Però non hanno ancora risolto niente Allora, comunque, partiamo subito dal portiere In porta, utilizzo check Che hanno alzato di livello, diciamo, l'anno scorso Di rating era un 84 Quest'anno è un 85 Guardiamo le sue statistiche Altezza di 196 cm 85 di tuffo, 82 di prezzo, 74 di review 85 di riflessi, 83 di piazzamento E 45 di velocità Allora, ragazzi, io con questa squadra per adesso ho fatto due partite Le ho vinte entrambe, però in entrambe è successo che All'incirca l'88esimo mi si è impallata l'Xbox Quindi me le date tutte e due perse, una cosa un po' tattica Comunque, boh, mi è sembrato un degno portiere Magari, no, vabbè, anche Qualità, rapporto, rapporto, qualità, prezzo È normale, ecco Non costa né troppo tanto né troppo poco Passiamo subito ai difensori centrali Innanzitutto, non so se ve l'ho già detto Questa starà un'ibrida Tra Barclays Premier League Poi nazionalità brasiliana Poi Serie A e Ligane Quindi una cosa veramente tattica Allora, da una parte utilizzo Tiago Silva Che è aumentato Potentemente di prezzo Infatti l'anno scorso costa sui 200.000 Quest'anno costa sui 49.000 Ora, io sono a Xbox Quindi i prezzi saranno un po' Saranno minori Diciamo di quali della Play Però non credo neanche di così tanto Comunque Tiago Silva Sì, mi è piaciuto Però per me non li vale 49.000 Ragazzi, mi è piaciuto molto di più invece David Luiz Che, ahimè, non è più il difensore baggato Che noi ci aspettavamo Perché Vabbè, un giocatore era baggato Quando costava poco Ed era una bestia qua Ahimè, David Luiz costa un macello Costa 23.000 Però devo dire che mi è piaciuto Mi sono scordato di dire che Ai difensori consiglio di mettere le carte Il chemistry style Uno di ancora Qui hanno glielo messo Perché appunto l'ho appena comprato E invece l'altro di spina dorsale Invece in porta consiglio gatto Ehm, una cosa Gatto perché c'è la miscia Che lo aiuta e pulce Comunque, passiamo subito ai terzini sinistri Allora, da una parte utilizzo Kevin Costant Andiamo a cercarlo Kevin Costant Non mi è piaciuto ragazzi Lui veramente non mi è piaciuto Però era l'unico che potevo mettere Perché appunto mi scrivo Un terzino sinistro della serie A Dopo vedete il perché L'ho pagato 2684 cm di altezza E non solo Piede dopo le tre stelle Mossa abilità a tre stelle 83 velocità 77 di difesa 78 di labeling 79 di passaggio 71 di colpo di testa Ve l'ho già detto A me non piace molto Però, trunk E ai terzini Si consiglio di mettere gladiatore Come chemistry style Infatti Infatti no Terzino destro Utilizzo Questo Terzino destro brasiliano Leandro Silva Che ragazzi Lui l'avevo trovato Nei pacchetti Nella serie appunto Che sto facendo Sul secondo canale Che è quella del pack of the day Se non l'avete ancora vista Vi consiglio di andarla a vedere E ragazzi Lui mi è piaciuto Veramente un macello Tantissimo Appala E ha 84 velocità Quindi buono I nostri Delle statistiche Fanno veramente Defecare Però per me È una bestia Poi non so Se ha dei buoni Warcraft Altro normali Infatti Io mi ci trovo Benissimo È sempre su Però Detta Essendo abituato a difendere a tre Perché io su FIFA 3 ci usavo 3-5-2 Qua è come avere Un 4-1-2-1-2 Quindi con 4 difessori Però Che poi sarebbero tre Perché appunto questo sale un macello Però mi piace veramente Tanto 100 campi stati difensivi centrali Utilizzo Ramirez Del Chelsea L'ho pagato Abbastanza se non mi sbaglio 15.000 180 cm Workrate alto Alto Quindi vi giocherà Molto su Infatti Se volete usare questa squadra Bisogna sapere anche abbastanza difendere Comunque 88 velocità Quindi una bestia 81 di dribbling 76 di difesa 72 colpi di testa Ragazzi Sì Ramirez mi piace Abbastanza Non mi piacciono sempre Quelle tre stelle Poi vabbè che in questo gioco Non si riesce neanche a schilare Però Una cosa che ho sempre Dato di Ramirez Era le sue tre stelle Ma passiamo subito All'esterno sinistro All'esterno sinistro Utilizzo Stefano E Sharawi Che qua ha un motore Però il motore Lo Perché l'ho comprato con motore Lo consiglio Ve lo consiglio di dare No Consiglio di darlo A Ramirez più che altro Infatti Un'altra cosa che vi consiglio È che Quando voi andrete a A costruirvi la squadra Magari Se un giocatore Costa 15.000 Voi cercatelo A 15.500 A 15.500 E prendete Quel giocatore Appunto che volete Che prendere Con una chemistry style Che sia anche Abbastanza decente Per il ruolo in cui Gioca Infatti il motore Sì vabbè È buono Ma io l'avrei dato Un centro campista Di fisico centrale Più che un esterno Comunque Sharawi L'ho pagato 19.000 4 stelle Piede debole Ancora 3 stelle Di mostabilità Ma ho saputo Che gliele alzeranno L'han fatto sul Sul gioco offline Quindi se ora faccio Un amichevole Contro i vostri amici Appunto che sono A casa vostra E Sharawi Dovrebbe avere 4 stelle Comunque lui Mi è piaciuto Veramente tanto Mi piace Un macello È un nuovo Un nuovo modo Di dire Un macello Poi Stern destra Utilizzo Lucas Lucas ragazzi Con regista Anche regista È più una chemistry style Da 100 campista Ostensivo centrale Comunque l'ho pagato 15.750 4 stelle Di mostabilità 3 di piede debole Io mi ricordo L'anno scorso Che era una bestia Cioè nel 12 Forse era veramente forte Non ricordo Comunque 92 di velocità 88 di dribbling E per il resto Staticiche abbastanza normali Che dire di Lucas Beh ragazzi Sì Mi è piaciuto Ma non è tutta sta gran cosa Centro campista Ostensivo centrale Allora ragazzi Vi dico subito Che per fare Punto inibola Di questa squadra C.O.C. L'ho dovuto adattare Perché infatti Il suo ruolo naturale Non è un C.O.C. Però Questa squadra mi attizzava Infatti come C.O.C. Utilizzo Verratti Marco Verratti Il ruolo naturale Diciamo di Verratti Era C.T.C. Quindi Non è che sia tanto potente Farlo giocare come C.O.C. Però comunque Alcune statistiche Del C.O.C. Ce l'ha in più Se li mettete Il camionista Il regista Diventerà sempre più Centrocampista Offensivo Quindi ci può stare 68 di velocità Infatti è abbastanza lento Però alla fine A 79 di passaggio Che è quello che serve Il dribbling Qualcosina serve Ed ha anche un po' di difesa Quindi nel caso Dovesse tornare Infatti i suoi rating Sono normale Normale Quindi non è che avanza sempre Sta un po' indietro E appunto Vi aiuteranno Ecco Allora Poi passiamo agli attaccanti Gli attaccanti Utilizzo Da una parte Super Mario Balotelli 84 Con Kevin Stile Cecchino Vi consiglio di mettere O Cecchino O Falco Oppure anche Cannoniere Tutte due buone Due partite Due gol Quattro stelle di piede Debole Tre mosse di abilità Io non capisco Neanche qua Perché a me sembra Ma per me Balotelli E Shara Whisky Erano di bestia Comunque Vabbè ragazzi Lui è un armadio Mi è piaciuto Lui è il giocatore Che mi è piaciuto di più Io non pensavo Se fosse così forte Altro attaccante Utilizzo Edinson Cavani Con il Kevin Stile Falco L'ho pagato 18.000 Infatti pensavo Che questo giocatore Costasse veramente tanto Comunque Tre di piede debole Tre di mosse abilità Anche qua Le mosse abilità In fastly del crimine Comunque Cavani Non è che mi sia piaciuto così tanto Tra lui Balotelli Al 2000 per 1000 Balotelli Quindi ragazzi Questa qua era la sua squadra La squadra Come vedete A 100 di intesa Mi sembra anche Abbastanza unibida carina Ringrazio Alessandro Quadg Marchini Per avermi aiutato a farla E parliamo un attimo Degli Intanto adesso starete Vendete gol Parliamo un attimo Dei comments of the week Allora ragazzi In cosa consisteranno Rifaccio diciamo Il conto Scrivacevo su Fia 12 Ovvero Voi dovrete commentare Questo video Scrivendo Una freddura potente Oppure una barzelletta Magari alla fine del video Vi farò anche vedere Il vincitore appunto Di l'anno Del comments of the week Di l'anno scorso Più Magari se potete Uno squad builder Che vorreste vedere Così anche io so Abbastanza direzionarmi Su Quelli che fa Sugli squad builder Da fare nel futuro Piccolo favore Se potete Mettete mi piace Se non volete appunto Commentare con una freddura Mettete mi piace Alle freddure Che vi piacciono Così che mi aiutate Anche a scegliere Più facilmente E più velocemente Il vincitore Vi volevo dire Che la cosa più importante Qual è Ovviamente Chi farà la freddura Più potente Vincerà un premio Quanto sarà Saranno 10.000 crediti Ricordo che il contest Vale sia su ps3 Che su xbox Quindi mi sembra stato Di essere abbastanza caro Commentate scrivendo Una bella barzelletta Oppure una bella freddura Una potente freddure E in più Uno squadra di liber Quad builder Che vorreste avere Quindi Ragazzi Se non l'avete ancora fatto Vi ricordo di iscrivervi Per favore Ecco Per partecipare Bisogna aver messo Mi piace al video E se potete andare Andate anche A iscrivervi al mio secondo canale Quindi Detto questo Vi saluto E vi dico potente A pala al centro Al prossimo video Bolla